ANSA, Milano, 27-8, nel Milan c'è un unico proprietario, è presidente della società, e non è in discussione in alcun modo il ruolo di presidente. Semmai dovesse porsi il problema non è il mio mestiere fare il presidente di una squadra di calcio. Tanto più che io sono tifoso del Vicenza. L'ex AD dell'ENI, Paolo Scaroni, consigliere della società rossonera, nega con l'AISA le ipotesi di stampa che lo vedrebbero prendere il posto del cinese Yongongli qualora il fondo americano Elliot assumesse il controllo del club.